Buonasera, eccoci alla seconda conferenza del ciclo Genesis di conferenze del 2017. Abbiamo oggi con noi lo studio Tamas Sociati con due dei cofondatori, Simone Sfriso e Massimo Lepore. Vi ringrazio di essere qui oggi e ringraziamo bene anche i nostri sponsor che ci hanno supportato. Vi passo Fabio Candido che vi presenterà lo studio. Buonasera, io ringrazio nuovamente gli architetti Sfriso e Lepore per averci dedicato questa seconda giornata del secondo ciclo di conferenze Genesis. Penso che mancava tra le professionalità che abbiamo avuto l'anno scorso e che avremo quest'anno una dimensione di studio come quella di Tamas Sociati. perché l'esperienza che portano ritengo possa complementare adeguatamente il mosaico professionale che può essere messo a disposizione della conoscenza dei giovani architetti che si stanno formando e che si formeranno negli anni successivi. Lo studio Tamas Sociati è uno studio molto particolare in Italia. Ora io mi soffermerò brevemente sulle tappe che hanno portato il riconoscimento dello studio in Italia e in ambito internazionale perché ovviamente gli architetti, è a vostra conoscenza, gli architetti potranno raccontarlo molto meglio di me. La cosa interessante che vorrei sottolineare è che lo studio Tamas Sociati lavora da diversi anni in una condizione che fino a qualche anno fa era considerata ai margini del mondo perché lavorate da oltre dieci anni con emergency, avete lavorato in contesti del terzo mondo e nel terzo settore, in paesi africani e in paesi del sud Italia che sono probabilmente in questi anni recenti in condizioni sociali ed economiche non così tanto differenti da alcuni paesi del terzo mondo. E la cosa interessante è che questo lavoro che è stato fatto ai margini, loro lo sostengono da tempo, ne parlavamo con l'architetto Sfriso pochi minuti fa, questa condizione di lavoro ai margini improvvisamente in anni recenti è ritornata ad essere una condizione dell'attualità italiana, del nostro contesto. Quindi l'esperienza che lo studio Tamas Sociati ha maturato negli scorsi anni in situazioni di lavoro di frontiera sicuramente può essere un'esperienza utile e paradigmatica perché possa essere utilizzata nella condizione italiana attuale. Ripercorro brevemente alcune tappe del loro lavoro partendo da un importante riconoscimento che loro hanno ottenuto nel 2013 che è il premio Aga Khan per l'architettura d'eccellenza dovuto a un lavoro molto importante, conosciuto, molto pubblicato, che probabilmente vedremo anche oggi immagino che è un centro di cardiochirurgia in Sudan e il premio internazionale Yus Kapokhin per la realizzazione dell'ospedale psichiatrico sempre in Sudan e il Cariston Design Prize per l'insieme della sostenibilità. Nel 2014 lo studio è stato insegnato del premio di architetto italiano dell'anno e molto interessante è la motivazione dell'attribuzione del premio che punta sulla dimensione etica della professione. Questa ovviamente è una cosa che è riconosciuta allo studio e che forse è il collante fondativo di numerosi progetti che loro hanno seguito. Nel 2015 hanno vinto un concorso per la realizzazione della chiesa del Varignano a Via Reggio che insomma presto potrà essere realizzata, ci auguriamo. E soprattutto nel 2016 Tamas Sociati è stato il curatore del padiglione italiano alla Biennale di Architettura dove ha portato un contributo che, mi permetto di dire, forse è stato quello più centrato rispetto al tema che Aravena, il curatore della Biennale, si è proposto di portare all'attenzione mondiale. Più centrato nel senso che la comunicazione del lavoro che loro hanno fatto, la selezione critica delle opere e soprattutto le modalità di comunicazione e allestimento si sono liberate di tutta una componente retorica che generalmente viene accompagnata alla comunicazione di progetti che si occupano del terzo settore generalmente. Ovviamente queste sono tutte cose che loro oggi ci illustreranno più nel dettaglio. Mi vorrei però brevemente soffermare su una cosa che penso che gli studenti di architettura presenti possano cogliere tra le righe dei progetti che verranno presentati. Innanzitutto penso che è una cosa molto interessante nel loro lavoro, soprattutto quando si trovano a lavorare in aree in cui è difficile fare un certo tipo di professione, sia per le condizioni al contorno, sia per le maestranze, condizioni sociali, condizioni nelle quali è immaturato l'incarico professionale. Ecco, un loro rapporto credo che sia interessante nel senso che c'è sempre un forte legame tra le modalità di costruzione legate alla specifica occasione progettuale e la tipologia costruttiva, la tipologia architettonica che loro scelgono di adottare. E' molto interessante il fatto che il progetto sia sempre legato all'atmosfera del luogo nel quale viene realizzato. Il costruire quindi viene legato a un senso del fare architettura che non vuole in nessuna maniera rinunciare a una visione ottimistica, progressista, dell'incarico e che ha, se non la volontà, l'intenzione di provare a modificare come germe positivo il contesto nel quale si va a insediare. Quindi il senso dell'abitare è in qualche maniera interpretato come un momento di comunità, continuità sociale e condivisione. Questo mi sembra che sia un collante delle opere che loro hanno realizzato nel corso degli anni. Mi sembra di intravedere una componente nuova che forse non avevo personalmente notato prima in un recente progetto che forse è in fase di realizzazione, che è il Masha Film Garden. Lo studio che è stato fatto, mi sembra di poter dire, nella preparazione del progetto, la modalità di comunicazione realizzata attraverso una serie di elementi, di studi sequenziali dei vari paesaggi, dei vari scenari che si sono creati o che devono delimitare e scandire questi differenti spazi del progetto, mi sembra che introducono un nuovo senso del paesaggio all'interno del progetto basato su sequenze forse di memoria calleniana, non tanto nella modalità di comunicazione basata sul bozzetto, quanto nella costruzione successiva di scenari e nella maniera del fruitore di muoversi all'interno dei scenari, che presupponeva per certi versi di nuova condizione, di nuovo rapporto tra il corpo e lo spazio architettonico che forse prima non avevo personalmente notato nei vostri progetti. Quindi non lo so, probabilmente ci aspetta una nuova fase nel vostro lavoro. E infine una cosa che mi sembra molto interessante, che gli studenti non avranno mancato di notare, che è una certa continuità, che soprattutto in un periodo più recente, come per esempio in questo progetto o anche nel progetto di allestimento del padiglione italiano labiennale, si verifica tra contenuti del progetto e modalità di comunicazione. Il progetto grafico negli ultimi anni mi sembra che sia diventata una componente importante e che non sia un elemento discontinuo rispetto al lavoro che fate, ma sia una componente di forte continuità che presuppone una visione progettuale completa e continua. Grazie, insomma, ci godiamo la vostra presentazione. Buonasera, sono Massimo Lepore, vi ringrazio per questo invito. Abbiamo accettato molto volentieri perché soprattutto nell'attività di conferenze e presentazioni del nostro lavoro abbiamo sempre un'attenzione, un grande piacere nel confrontarci con la platea di studenti e diciamo è la parte del nostro lavoro che forse ci interessa e ci motiva di più. Non siamo uno studio accademico, non siamo portatori di una teoria dell'architettura sotto certi aspetti, quindi anche la nostra presentazione di oggi è più un racconto, quindi il nostro atteggiamento verso il progetto è un atteggiamento molto pragmatico, è proprio una pratica di architettura, forse legata anche alla nostra lettura dell'architettura come un servizio e una utilità sociale e quindi il nostro approccio è un approccio abbastanza artigianare che è anche un po' condizionato dalle scelte che abbiamo operato. Noi siamo un piccolo studio, però lavoriamo con molta energia e anche divertendoci, nonostante spesso si devano affrontare situazioni e contesti molto molto critici e lo facciamo anche perché questa scelta ci porta continuamente ad affrontare però condizioni, committenze e esperienze sempre nuove, quindi questa tensione, questa voglia di cercare comunque sfide sempre, rinnovare sempre sfide soprattutto per esempio quando si deve iniziare un cantiere in un paese complesso dove c'è un problema di maestranza, un problema di materie prime eccetera, trovare soluzioni diventa una componente del fare architettura e soprattutto di fare architettura utile che in qualche senso costituisce un po' sia la motivazione, il collante e anche quello che vorremmo forse trasferire nel momento in cui parliamo, nostri nostri progetti e soprattutto una platea di studenti e di persone giovani. Quello che facciamo grosso modo è già stato riassunto nella breve presentazione che è stata fatta del nostro studio, così come è stato detto anche il fatto che la nostra attività ci ha portato un pochino a sperimentare il tema del costruire l'architettura in luoghi molto diversi da quelli della nostra formazione e anche da quelli in cui siamo cresciuti tra gli anni 80 e gli anni 90 dal punto di vista sia personale che culturale, quindi la reazione forse anche un tipo di architettura che in quegli anni non ci trovava, non ci emozionava diciamo così, è stata quella di cercare le condizioni, i luoghi dove ritenevamo ci fosse bisogno di quell'architettura che avevamo in mente, cioè di un'architettura molto attenta alle necessità e ai bisogni delle persone. Questa è una piccola mappa più o meno che mostra dove sono in corso i progetti che stiamo seguendo. Una caratteristica ovviamente di queste aree che avete visto in una fascia mediana del nostro pianeta diciamo purtroppo sono anche zone caratterizzate da forti conflitti e condizioni estreme. Questo è un progetto che stiamo seguendo in un campo profughi nel nord dell'Iraq per portare anche in quelle condizioni estreme attraverso l'architettura comunque una possibilità, una speranza, un'idea di futuro che nel nostro caso diciamo si è legata in prevalenza a progetti di assistenza sanitaria. Questa è una cifra diciamo una scelta anche casuale che è una strada che abbiamo intrapreso soprattutto grazie alla collaborazione maturata ormai in tanti anni con l'associazione Onlus Emergency che ha fatto di questa attività la propria missione diciamo in questo senso e noi ci sentiamo profondamente coinvolti in questo compito diciamo. Non è stato scelto, siamo stati scelti da questo compito in un certo senso e cerchiamo di portarlo avanti nelle miglior modo possibile. L'immagine che avete visto prima è un'immagine di omogenità, banalità e anche tristezza perché sono ovviamente insediamenti ripetitivi, omologhi che portano purtroppo a quella che ormai stiamo assumendo, assimilando tutti come una specie di standardizzazione del dolore che a volte diventa anche un'ingegnerizzazione del dolore. In realtà il nostro approccio entrando in contatto con queste realtà è quello comunque attraverso l'architettura di cercare di umanizzare i luoghi e di creare e umanizzare le strutture quindi lavorando con elementi molto semplici, colori, diaframmi, materiali, schermi eccetera in maniera da creare comunque luoghi in cui le persone possano in un certo senso ritrovarsi, ricollocarsi e ricentrarsi. Il problema di questi interventi, queste situazioni producono uno spaesamento che ovviamente genera anche un disagio psicologico fortissimo, ecco credo che l'architettura oltre a rispondere alla necessità e ai bisogni materiali sia anche uno strumento per cercare di dare una risposta e curare quelli che sono dei bisogni invece immateriali. Questa attività si svolge a tutto campo, in più regioni, questa è una clinica di maternità appena aperta nel Panjshir in Afghanistan in un luogo in cui proprio attraverso sul tema della nascita, della maternità, si è riusciti in una zona conflittuale perché diverse etnie sono in conflitto in quell'area, diciamo, il progetto di questo tipo di assistenza soprattutto legata all'idea della nascita di una nuova vita è diventato un oasi di pace e comunque di rispetto reciproco in un'area invece di forte contesa, di forte conflitto. Questo tipo di esperienza ci ha portato un po' a lavorare quindi nelle zone di margine, nelle periferie e riscoprire poi come anche all'interno del nostro paese questa sia una necessità primaria che a volte è evidente, a volte è sotto traccia ma costituisce comunque un compito importante in cui l'architettura può esercitare comunque la sua missione. Questa che vedete era una vecchia struttura, un poliambulatorio a Ponticelli periferia nord di Napoli, completamente abbandonato e devastato perché era in uno stato di totale incuria attraverso una convenzione tra il sistema nazionale sanitario e l'associazione emergency è stato recuperato e portato a fornire servizi sanitari di prima fascia ad una parte di popolazione residente in quel comune che ne era assolutamente priva. Quindi l'idea anche di come con l'architettura si possa intervenire in contesti di prossimità che altrimenti tendiamo a ignorare più o meno volutamente. Questo progetto è all'interno di un progetto più vasto che si chiama Progetto Italia condotta dall'associazione emergency che ha proprio l'obiettivo di fornire assistenza primaria a soggetti deboli all'interno dei confini nazionali. non sembra, ma sono già 7-8 cliniche operative in Italia, compreso anche in una città civilissima come Bologna e supportate anche da attività e progetti legati a strutture mobili. Questo tema generale, così, che un pochino ha accompagnato tutta la storia della nostra professione e dei nostri progetti, si è manifestato in maniera molto palese l'anno scorso all'interno della mostra Reporting from the Front della Biennale di Architettura di Venezia. Non so quanti di voi hanno potuto visitarla, però di fatto ha costituito un po' un'esposizione di rottura. Il curatore, il direttore del generale della mostra, Alejandro Aravena, ha posto quindi una serie di domande, di temi all'attenzione dei progettisti, proprio perché, chiamando anche ad un'assenzione di responsabilità in maniera da porre a tutti i progettisti responsabili la domanda su il ruolo dell'architettura, la possibilità e la capacità dell'architettura di trovare delle soluzioni a quelli che saranno sicuramente i temi, sono già adesso, ma sempre più saranno i temi cruciali di questo millennio e quindi soprattutto legati al tema dell'inurbamento e di conseguenza delle periferie. Il nostro approccio, diciamo, e si è poi, ne parlerà Simone, si è poi concretizzato nell'allestimento che abbiamo preparato per il Padiglione Italia, che è stata una ricognizione proprio su questi temi, su cosa succede nel nostro Paese in merito, in relazione a questi temi, soprattutto andando a ricercare quali sono le risposte che vengono dal basso e quali sono i progetti che in qualche modo dimostrano che è possibile anche con risorse limitate produrre, dare una risposta a queste necessità. La mostra è stata chiamata, titolata Taking Care, che come avete visto nella diapositiva di apertura e come leggete in questa, costituisce in un certo senso la chiave di interpretazione di questa nostra visione dell'architettura come un'attività legata a dare una risposta a dei bisogni sociali. In particolare questa visione si concretizza e si manifesta soprattutto nel momento in cui si affrontano progetti di sanità, quindi si entra più in diretto contatto con quello che è il tema delle necessità, della sofferenza e della risposta che con la nostra attività progettuale possiamo dare. Questo è il centro di chirurgia e cardiochirurgia di Khartoum, Sudan, che è stato richiamato anche perché è stato un progetto molto importante nel continente africano. È il secondo centro cardiochirurgico del paese, dopo Durban, in Sudafrica, che è l'ospedale dove sono stati fatti i primi trapianti di cuore negli anni 60 dal chirurgobarnert. Ed è, a differenza di quasi tutte le strutture che sono presenti in Africa, sanitarie in Africa, è un'assistenza completamente gratuita. Quindi il grande valore, il grande messaggio di questi progetti sono al di là del messaggio di cura, attenzione per la persona, che viene trattata come un paziente, come un ospite e viene accolto quindi in un contesto che usa anche la bellezza come terapia, sistema di cura. Al di là di questo viene anche presentata un tipo di sanità gratuita, perché è il frutto di un lavoro continuo di assistenza, ricerca di fondi, volontariato del personale e accordi con le istituzioni governative dei paesi che ospitano le strutture di emergency, volti a promuovere l'idea che la sanità sia un diritto. È un tema molto importante che ci deve sempre fermare e fare riflettere, perché il lavoro dell'architetto è anche un lavoro che interroga i principi. Non è solo, devo fare un buon architettura, un buon ospedale, voglio anche capire chi può accedere a questo ospedale. Intanto posso raccontarvi due cose in relazione a questo progetto, perché è stato il progetto con cui abbiamo iniziato anche a costruire un rapporto particolare con l'associazione Emergency, che fino a quel momento aveva sviluppato lavori in un contesto sempre di emergenza. Quando parlo di emergenza, ovviamente intendo le condizioni che possono essere tipiche di una chirurgia di guerra, soprattutto svolta in zone in presenza di conflitti armati e situazioni analoghe. Questo progetto invece ha voluto costituire uno sviluppo, un passo avanti, perché in una direzione di cooperazione, cioè il centro cardiochirurgico si chiama SALAM, che vuol dire pace, e l'organizzazione di questo progetto è stata coordinata tra più paesi, ovvero sia il centro di chirurgia funziona come un hub su cui si appoggiano tutta una serie di cliniche pediatriche che sono state realizzate in un'area che grosso modo serve una popolazione di 300 milioni di persone. Quindi anche stati con rivalità e con conflitti dichiarati, si sono comunque trovati a collaborare su questo progetto per creare una rete sanitaria di eccellenza che ha permesso e permette tuttora la cura di pazienti, quindi con una logica transnazionale e con un servizio anche di trasporto, ospitalità e riconsegna del paziente dopo il trattamento e le cure su un'area molto più estesa di quella che poteva essere. Quindi non è tanto un progetto di emergenza in questo caso, ma è proprio un progetto che vuole portare una diversa idea di sanità all'interno di un contesto dove proprio si tratta di costruire un nuovo modo di pensare le relazioni tra cittadini, Stato e servizi. Ecco, questi sono gli spazi interni ricavati nell'ospedale. L'ospedale è organizzato come un campus, quindi a padiglioni, non è un unico edificio e questo è stato anche possibile perché la fortuna è stata quella di vederci assegnare un lotto sulla riva del Nilo Bianco, quindi in una condizione anche favorevole dal punto di vista climatico e ambientale con vegetazione rigogliosa, eccetera. La struttura dell'edificio, come vedete, è una struttura molto semplice, l'edificio principale, perché è una struttura a corte con proprio quest'idea di creare degli spazi sempre interclusi che in un certo senso possono accogliere ed abbracciare le persone che vengono per affrontare il percorso terapeutico. L'area la vedete tratteggiata sotto e alcune immagini del cantiere dove un altro tema portante del nostro lavoro si fa con quello che c'è e soprattutto si cerca di organizzare anche un percorso di formazione delle maestranze locali in maniera che l'architettura che si porta in quei luoghi possa diventare anche uno strumento di crescita economica. Le maestranze che lavorano in questi cantieri sono maestranze che poi possono continuare, acquisiscono una professionalità che poi possono continuare ad esercitare in altri contesti. Quindi c'è un lavoro di formazione e quindi anche di grande attenzione ai temi dell'architettura locale, dell'artigianato locale e di tutti gli elementi che appartengono alla cultura locale. Questi semplici schermi che vedete sono realizzati praticamente mettendo in piedi quelli che sono i letti tradizionali dell'area del sud Sudan. Le maestranze erano prevalentemente di una tribù che si chiama, nominata Dinka, che è originaria del sud Sudan e presenti in grande numero nella zona di Sudan proprio perché profughi in quanto si sono dovuti allontanare dalle loro zone e portando però con loro tutte le loro conoscenze, le loro tradizioni. Quindi vedere queste abilità nel lavoro di intreccio è stata poi un'occasione per provare a sperimentare dal punto di vista delle soluzioni progettuali un diverso utilizzo di questi elementi e quindi sfruttare le loro capacità, per provare le loro conoscenze per produrre anche delle soluzioni comunque affini a quel contesto. Un altro elemento di particolare attenzione è la risposta tecnologica alle condizioni climatiche. Quello che vedete in questa immagine è una tempesta di sabbia che ovviamente produce una condizione di stress per tutte le apparecchiature che necessitano per il trattamento aria e quindi da questo anche investigando quelle che sono le soluzioni tradizionali delle torri del vento, delle trappole d'aria e così via, l'ospedale ha un basamento che funziona come una galleria d'aria che cattura l'aria da delle feritoie, delle torri, la porta negli scantinati e lì attraverso un movimento forzato meccanicamente abbiamo una prima caduta di tutti il pulviscolo, la sabbia eccetera e un abbattimento anche di 4-5 gradi della temperatura prima dell'emissione nelle macchine del sistema di raffrescamento quindi con la possibilità di ridurre sia l'assorbimento di energia sia i costi di esercizio naturalmente la maggior parte degli impianti lavorano sfruttando sia l'energia solare e ovviamente i gruppi generatori perché per tutte le strutture sanitarie devono avere dei gruppi di backup in maniera da garantire autosufficienza queste sono altre immagini degli spazi interni all'ospedale come vedete quel corpo colorato di rosso presenta questa forma un po' antropomorfa che è un po' un ragionamento sul linguaggio, cioè andare a ritrovare degli elementi riconoscibili in cui il nostro immaginario può trovare un eco immediato al di là delle culture di appartenenza eccetera però allo stesso tempo è una di quelle feritoie di cui vi parlavo che fanno parte del sistema di recupero e di pretrattamento dell'aria ovviamente l'altro elemento di attenzione è quello legato ai costi e alle risorse questo progetto ha portato, l'ospedale ha avuto la necessità di trasporto e invio di materiali soprattutto di carattere sanitario via nave, via container con container che venivano sbarcati a Port Sudan Port Sudan è uno dei posti più infelici della terra e quindi vengono inviati in questo porto solo i container a fine vita quindi una volta poi fatto il viaggio di circa 300 km per arrivare a Soba questo distretto, questo quartiere a sud di Khartoum era antieconomico riportare indietro i container perché erano ormai a fine vita quindi si era creata una specie di cimitero, di elefanti di questi oggetti abbandonati che di fatto costituivano rifiuti ecco, la sfida è stata quella di rienterpretarli saldarli, rivestirli con un sistema di doppie pelli in maniera da dare delle condizioni diciamo di abbattimento dell'irraggiamento e trasformarli in un compound residenziale per il personale medico internazionale ovviamente le condizioni erano particolarmente favorevoli perché si lavorava sulla riva del fiume quindi in presenza di una vegetazione lussureggiante con alberi di alto fusto e questo qui è la trasformazione da quei rottami che avete visto prima agli spazi che sono dedicati al personale che tendenzialmente sta da 3 a 6 mesi sono i turnover del personale medico questa è la caffetteria che affaccia in fondo sulla riva del fiume Nilo questa è una rappresentazione assonometrica esplosa di come partire dal modulo del container che probabilmente deve essere una patologia proprio psicotica di qualsiasi architetto che ha cominciato a lavorare con l'ego quindi si vuole sempre fare qualcosa con un container in questo caso questa opportunità per noi è stata fonte anche di una riflessione sul budget e sugli obiettivi di sostenibilità che ci prefiggevamo e che volevamo raggiungere per cui questi sono alcuni numeri relativi ai vantaggi, all'impronta ecologica dell'intervento vedete il container prima e la corte dopo e questa è la caffetteria vista dalla riva del Nilo e siamo riusciti a realizzare questo compound con un costo di circa 457 euro al metro quadro i costi di costruzione sono ovviamente più bassi in queste zone ma dovete considerare che i costi di trasporto e di stoccaggio del materiale possono essere 10-12 volte quelli che abbiamo normalmente qui nei nostri contesti produttivi vi avevo accennato a questo sistema facciamo un piccolo giro per quelle che sono i centri pediatrici che costituiscono un po' il network i punti terminali di questa stella che ha al centro il polo cardiochirurgico questo è proprio a Port Sudan in una zona desertica un edificio che si pone come tema il tema del recupero dell'acqua essendo ovviamente questa una zona priva assolutamente di acqua e quindi con la veleità di costruire un giardino costruire un'area verde davanti all'edificio a servizio anche del campo profughi che si trova dall'altra parte della strada e quindi fare diventare questo luogo anche un luogo pubblico un risultato che si comincia a intravedere qua queste sono immagini di due anni fa grossomodo ora tutta la parte verde è cresciuta e questo obiettivo è stato raggiunto quindi non solo quello di fornire un nuovo tipo di assistenza sanitaria a chi sostanzialmente non ha nulla perché partiamo di un campo profughi di circa 300.000 persone un tendopoli in sostanza ma anche un luogo fornire a queste persone un luogo dove potersi riconoscere e ritrovare ogni settimana qui davanti all'ospedale si tiene il mercato il mercato rionale diciamo così questa è una cosa spontanea che è nata e questo ci fa ovviamente molto piacere questa è la zona di aspetto dentro e fuori il tema di un albero è sempre un tema legato all'idea di vita e speranza e altre immagini delle tecnologie molto semplici per i solai di copertura tecnologie a volte a piccole volte quindi come vedete mattoni prodotti in loco quindi con una qualità ovviamente uno standard ovviamente basso ma il risultato poi alla fine è questa ritmicità degli spazi che li rendono molto più ricchi di un banale controsoffitto a plafoni 60 per santa che potete vedere in qualsiasi poliambulatorio dell'ASL locale qui a Pisa piuttosto che a Treviso e questo lavoro sulle tonalità dei colori freddi che diventano anche dal punto di vista psicologico un po' la grande lezione di Alvaralto cioè lavorare con la percezione psicologica del colore per creare un'idea di un luogo più fresco questo diagramma più o meno cerca di rappresentare tutta la circolazione dell'aria come viene effettuata all'interno di questi edifici dove il basement ha proprio questa funzione tecnica di prefiltraggio va bene niente questo era vediamo se riusciamo come è stato spiegato come introduzione abbiamo iniziato questo lavoro in tre il nostro terzo socio Raul Vantaleo non è qui presente e quindi avevamo un piccolo filmato che in qualche modo riassume questa parte di lavoro sulla sanità in cui lui è presente e discute con il rappresentante vediamo così avete modo di presentare di conoscere ecco questo è il contesto in cui il contesto di prossimità del dell'ospedale la emergency costruisce gli ospedali di chirurgia di guerra per operare e diciamo garantire assistenza alle vittime civili che abbiamo iniziato con la collaborazione con l'emergenza nel 2004 ho detto che non ho mai designato un hospital nella mia vita l'unica cosa che stavano è che il hospital deve essere scandalosamente bello altrettissimo sì sì l'amore l'amore è una sorta di messaggio che ti dimentichi ai pazienti che ti consideri come uguali quindi l'amore dell'ospedale è parte del processo di guardare il paziente portiamo in Africa un ospedale che dia un messaggio e cioè quello di di riconoscimento della stessa dignità e degli stessi diritti il primo grande è bisogno costruire strutture che non costino tanto non in termini di costruzione ma in termini di gestione di running cost e qui tutti i discorsi legati appunto alle modalità di trattamento aria condizionamento gestione tutto dell'intero sistema il sudan è una zona subsahariana con temperature che possono raggiungere anche i 50 gradi per cui la scelta di costruire degli edifici con muri di grande spessore diciamo costruissero doppie pelli cioè il fatto di avere una struttura centrale dell'ospedale protetta dalla pelle esterna è stato uno degli elementi fondamentali l'altro aspetto importantissimo è stato quello del trattamento dell'aria in sudan abbiamo un grosso problema che deriva dalla bub la bub sono delle tempeste di sabbia enormi la sabbia è una sabbia sottilissima è come un talco per cui questo ovviamente per quanto riguarda qualunque tipo di struttura sanitaria è un grossissimo problema l'idea è quella di captare l'aria ad altezza del suolo dove è più pulita portarla nell'interrato come è stato fatto è una specie di ginkana di muri dove l'urto meccanico del flusso dell'aria deposita la sabbia sul pavimento per cui questo ci permette di comunque raffrescare e condizionare la struttura anche in assenza di elettricità vedere un luogo pulito dove ci sono i colori dove è tutto pulito ma non soltanto dal punto di vista igienico anche che c'è cura c'è cura nelle cose ci sono le piante ci sono le cose in ordine questo fa la differenza il diritto alle cure il riconoscimento della dignità per ciascuno di accedere al trattamento sanitario quando ne ha bisogno non li consideri come pazienti li consideri come ospiti come persone che hanno diritto ad essere curate a stare bene e sicuramente questo è stato un grandissimo merito di Anagency di aver riconosciuto l'architettura è diventato uno strumento di cura questo era un breve filmato il contesto era quello di un premio di una fondazione statunitense californiana il Cariston Foundation che ha da più anni posto particolare attenzione su questo tema dell'impact design cioè di come l'architettura può produrre nei fatti un miglioramento delle condizioni di vita delle persone che la utilizzano e qui entriamo proprio nel tema di questo che è stato centrale anche per la recente biennale nel quale diciamo il nostro lavoro di ricerca di proposta ha cercato di allargare l'orizzonte non solo all'esperienza di progettazione in sanità di cui siamo stati per tanti anni e tuttora ci occupiamo ma anche ampliando questa ricerca su un tema più generale che sono il tema dei beni comuni cioè il tema dei commons e di come l'architettura può essere uno strumento anche a servizio di un uso diverso degli spazi e degli luoghi condivisi tra le persone adesso questa parte che racconta alcuni dei progetti della biennale e i progetti che stiamo anche eseguendo recentemente la lascio volentieri a Simone e vi ringrazio per l'attenzione ecco come diceva Massimo veniamo da un anno un po' particolare in cui abbiamo dovuto abbiamo avuto l'opportunità di affiancare la nostra attività quotidiana di architetti quella di curatori del del padiglione italia in carico che ci è stato conferito attraverso una selezione una gara inviti indetta dal ministero dei beni culturali che è il padrone di casa del padiglione italia e il tema che veniva proposto ai vari studi invitati a portare un concept era quello delle periferie e quindi sul tema delle periferie noi abbiamo ovviamente concentrato la nostra attenzione interpretando quello che è per noi la visione delle periferie le periferie non sono solamente il nostro modo di vedere quei luoghi fisici che ben conosciamo la città di nuova costruzione l'espansione intorno alla città antica che è avvenuta nel secondo dopoguerra del secolo scorso fino grossomodo ai giorni nostri ma tutti quei luoghi di marginalità di degrado di abbandono laddove c'è il margine c'è la periferia e quindi su questa riflessione abbiamo innestato poi anche un altro tema di ricerca che ci sta accompagnando adesso in tempi più recenti che è dedicato alla riflessione intorno ai beni comuni ma che cosa significa parlare di beni comuni allora si è molto parlato la ricerca sui beni comuni si è articolata in anni recenti si è sofisticata non si parla più di beni comuni non ci si riferisce solamente più a quelle risorse naturali che bene conosciamo l'acqua l'aria la terra come beni comuni ma quando si parla di beni comuni si parla anche della capacità di usare queste risorse naturali diritti che una comunità ha di godere dei frutti di queste date risorse quindi ecco questa che vedete è una mappa mentale che avevamo tracciato nel momento in cui stavamo lavorando all'elaborazione del concept della nostra proposta per il Padiglione Italia ed è anche frutto di uno schema che deriva da una ricerca di Paolo Inghilleri un docente di sociologia ricercatore dell'Università di Milano quindi beni comuni si riferiscono a risorse ma si riferiscono anche ai risorsi alle relazioni di comunità le relazioni di persone quindi si passa da un mondo materiale a un mondo immateriale e quindi per una sequenza di sequenza logica si parla anche di quei luoghi in cui si svolgono le relazioni tra le persone quei luoghi in cui si svolgono le relazioni di una comunità e quindi la casa la città il territorio il lavoro e quindi entriamo man mano in quello che è il nostro lavoro di progettisti di architetti di ingegneri e quindi questi luoghi sono i beni frutto di una creazione collettiva indipendentemente dal fatto che siano di proprietà pubblica e di proprietà privata e qua andiamo a definire qual è la dimensione proprietaria del bene comune che travalica travalica anzi la dimensione proprietaria un esempio banale forse per capirci un pozzo nel nostro giardino ci appartiene l'acqua noi godiamo dell'acqua che possiamo trarre dal pozzo che sta nel nostro giardino ma l'acqua pesca da una falda e la falda non è di nostra proprietà è un bene comune di cui può godere una comunità più ampia e quindi prendersi cura del suolo non inquinare le falde significa avere godere di una risorsa a titolo personale ma godere di una risorsa che è un bene di una collettività entriamo poi quindi in una riflessione che riguarda si amplia sempre di più riguarda beni comuni globali quindi l'atmosfera il clima ma anche beni materiali quali la sicurezza alimentare la pace la legalità le tecnologie che cosa centra l'architettura con tutto questo forse l'architettura può essere interpretata come quello snodo tra la concretezza dei materiali dei luoghi e l'immaterialità dei legami degli affetti delle relazioni tra le comunità e quindi sulla base di queste riflessioni abbiamo voluto individuare quei progetti che in qualche maniera sono diventati beni comuni lo abbiamo fatto con il supporto di un comitato di indirizzo quindi di un gruppo di saggi che ci ha supportato in questo lavoro 13 personalità provenienti da ambiti disciplinari di ricerca diversi la sociologia la semiotica la critica dell'arte dell'architettura quindi nell'ottica di ampliare quella che poteva essere il nostro punto di vista e questo peraltro risponde poi a una consuetudine che noi cerchiamo di mantenere nei nostri progetti in cui quando possibile cerchiamo di coinvolgere persone provenienti da discipline diverse in modo tale da avere sempre un occhio diverso rispetto ai progetti quindi cercare di uscire da quella dimensione dell'autonomia disciplinare dell'architettura a cui noi non abbiamo mai creduto molto anzi forse non ci abbiamo mai creduto per nulla quindi il padiglione poi è stato strutturato in tre sezioni una prima sezione in cui abbiamo cercato di tradurre in maniera anche molto sintetica queste riflessioni di cui vi ho parlato una seconda sezione incontrare il bene comune in cui abbiamo portato 20 progetti che rispondevano a due progetti per ogni campo di indagine 10 campi di indagine quindi 10 possibili declinazioni del concetto di bene comune quindi ad esempio la legalità come bene comune la salute l'istruzione l'infanzia l'alimentazione e via dicendo quindi per ognuno di questi 10 campi di attività due progetti un totale di 20 progetti tutti i progetti realizzati peraltro realizzati in prevalenza da studi giovani ci sono molti under 40 ci sono alcuni under 30 delle opere prime e quindi e questo ci sembrava importante sia perché in questo in questa attività di curatori anzi diciamo di architetti prestati alla curatela perché fare i curatori è un mestiere difficile abbiamo dovuto imparare facendolo e quindi abbiamo ritenuto che fosse importante che il padiglione fosse un luogo dove questi giovani studi questi giovani architetti giovani progettisti avessero spazio per mostrare le proprie le proprie idee e poi perché questa non era una scelta esclusiva ma perché abbiamo riconosciuto nel nei giovani progettisti nei giovani collettivi una capacità di rivedere i modi di fare la professione forse in maniera più fresca più innovativa ne parlavamo prima la crisi economica ha rappresentato forse un momento di interruzione rispetto a quella filiera a cui eravamo abituati a ragionare in termini professionali quella filiera che parte da una committenza che assegna un incarico a un progettista che realizza un progetto che poi viene immesso nel mercato ecco la crisi economica fa sì che questa filiera perfetta si spezzi e quindi l'architetto il progettista forse deve diventare anche promotore di progetti deve riconoscere opportunità dove magari non ci sono e creare anche le condizioni per realizzare i progetti i progetti sono molto diversi tra di loro come dimensioni come tipologia di committenza però hanno diciamo raccontano storie ecco ci interessava anche molto raccontare storie ve ne racconto brevemente alcune questa è una storia credo paradigmatica questa che vedete è una villa che si trova a Casal di Principe era la residenza di un boss della Camorra una villa sequestrata alla mafia data in uso in gestione alle associazioni locali e in questo luogo questo giovane studio di architetti Diana Architecture insieme ad RS Architettura Under 30 questa è un'opera prima vengono chiamati a realizzare un'esposizione di opere d'arte provenienti dalla collezione degli uffizi sono tutte opere che appartengono alla tradizione barocca napoletana barocca del barocco campano lavorano con un budget minimale 10.000 euro e con questo budget lavorano con quello che possono diciamo che con un approccio simile a quello che raccontava prima Massimo lavorare dare valore a quello che c'è sul posto in questo caso facile reperibilità economica e operativa ponteggi e reti arancioni avvolgono l'edificio con strutture tubi e giunti rivestono completamente l'edificio con questa rete arancione da cantiere quindi ne trasfigurano la forma lo fanno diventare qualcos'altro però attraverso la rete arancione si continua a intravedere in filigrano quella che è la struttura di questa villa banale che esprime nella sua banalità tutta la violenza della prevaricazione della camorra in questo luogo quindi si conserva la memoria di questo luogo e poi la sistemazione degli interni con la realizzazione dell'esposizione Restart La luce vince sul buio un titolo sintomatico per quel progetto questo è un altro progetto siamo sempre nel sud Italia Favara Favara un paese un borgo in stato di progressivo abbandono siamo a 20 km dal mare nella provincia di Agrigento e qui la visione invece di un collezionista d'arte un appassionato di arte contemporanea che decide di investire non tanto nell'acquisto di opere d'arte per la propria collezione professionale per la propria collezione personale ma decide di investire sul luogo di investire sulle idee di investire sulla capacità degli artisti dell'arte contemporanea di riqualificare un luogo da un punto di vista fisico e da un punto di vista culturale e quindi comincia ad acquistare alcuni di questi immobili abbandonati e di trasformarli attraverso le residenze artistiche quindi chiama gli artisti che risiedono a Favara per periodi più o meno lunghi e con il loro lavoro trasformano questi luoghi luoghi che poi vengono investiti di funzioni diverse ci sono spazi per la residenza spazi per laboratori workshop spazi per il piccolo commercio bed and breakfast un museo per i bambini e quindi un progetto virtuoso che riqualifica il borgo fa sì che questo borgo totalmente abbandonato diventi un luogo interessante quindi le persone turistiche continuano soprattutto d'estate ad andare da quelle parti continuano ad andare nelle spiagge al mare ma la sera vanno a Favara perché a Favara succedono cose Favara è diventato un posto interessante dove ci sono spettacoli dove ci sono manifestazioni artistiche questo progetto poi innesca altri progetti di recupero analoghi a questo e quindi un progetto virtuoso anche da un punto di vista dell'investimento sulla cultura come motore di riqualificazione di un luogo ma un progetto che poi si sostiene anche da un punto di vista economico quindi diventa un progetto imprenditoriale e poi ancora la visione di un giovanissimo studio di architetti in questo caso siamo nel Salento qui giovani architetti studiano a Firenze dopo la laurea decidono di tornare nei paesi di origine e di aprire lo studio San Cassiano tra San Cassiano e Lecce quindi una sfida avviare un'attività professionale in un luogo che offre pochissime opportunità di lavoro e quindi laddove il lavoro non c'è o forse c'è poco lavoro allora il tentativo l'idea di inventarsi un lavoro e quindi concentrano la propria attenzione sui paduli questo pezzo di campagna abbandonata e lo fanno inizialmente attivando una serie di workshop nelle piazze del paese soprattutto durante l'estate quindi invitano amici fotografi esperti di partecipazione un sociologo artisti e in questa maniera coinvolgono la comunità locale e la popolazione e il primo obiettivo è quello di ricostruire l'identità di questo luogo questo pezzo di campagna abbandonata da quei fenomeni di abbandono delle culture tradizionali di emigrazione e di inurbanizzazione siamo anche in una stagione voglio dire forse fortunata quella stagione del governo vendola stagione dei bollenti spiriti in cui ci sono forti investimenti da parte delle istituzioni pubbliche per le start up giovanili quindi a questo punto riescono grazie a queste idee che mettono in campo a ottenere dei fondi fondi che poi vengono utilizzati per riqualificare tutto il sistema della sentieristica dei tratturi delle strade bianche quindi un progetto di paesaggio che si innesca su questo luogo e poi dei progetti di riappropriazione delle culture tradizionali e quindi riescono in un momento in cui le amministrazioni pubbliche tendono a alienare i propri beni riescono a convincere uno dei comuni il comune di San Cassiano ad acquistare un pezzo dei paduli un pezzo di campagna e di costituire un oliveto pubblico l'effetto di questo progetto un progetto che sta andando avanti da diversi anni è che adesso in questo luogo si è riattivata la produzione dell'olio d'oliva extravergine l'olio lampante una cooperativa di 15 persone 15 giovani del luogo sta lavorando continua a lavorare in questo luogo stanno avviando dei progetti di turismo lento concorsi di architettura come questo che vedete in queste immagini in cui se non sbaglio ogni anno si invitano progettisti under 30 a realizzare dei ricoveri biodegradabili li chiamano così progetti di ricoveri che vengono realizzati con trovanti quindi con materiali che si possono reperire sul luogo il progetto vincitore i progettisti del progetto vincitore vengono poi messi nelle condizioni per realizzare questi ricoveri come quello che vedete in quella immagine o in questa immagine poi da qui un progetto di accompagnamento delle persone che vogliono visitare i paduli che vengono accompagnati possono dormire lì gli viene raccontata la storia quindi un progetto che intreccia paesaggio architettura e anche in questo caso produzione e imprenditoria quindi un progetto virtuoso da tutti i punti di vista un'idea che si trasforma in un progetto un progetto che riesce a ottenere dei finanziamenti che innesca meccanismi economici e diventa poi un progetto importante anche da un punto di vista professionale per questo giovane studio di architetti quindi loro sostanzialmente si inventano veramente un progetto laddove non c'era e questo è un progetto che ha dei caratteri completamente diversi in questo caso una committenza pubblica la regione anzi la provincia di Reggio Emilia il comune di Reggio Emilia decide di realizzare un tecnopolo di ricerca industriale quindi l'idea in un momento in cui la globalizzazione i meccanismi di globalizzazione mettono in crisi o mettono in difficoltà le molte piccole frammentate realtà dell'imprenditoria locale investe sull'innovazione investe sulla ricerca investe sulla costruzione di reti attraverso le varie aziende piccole o di piccola dimensione di media dimensione possono tra di loro costituire poli che possono essere competitivi rispetto ai mercati internazionali e quindi lo fanno recuperando inizialmente questo edificio che sono le ex officine reggiane un'area industriale un'area produttiva abbandonata e quindi riconoscono il valore nell'investimento dedicato all'innovazione ma anche un valore intrinseco in tutto quel patrimonio di beni di immobili abbandonati che caratterizzano il nostro territorio questa è la prima fase del progetto la seconda fase poi ha riguardato la riqualificazione di altri cappannoni dove le varie aziende si stanno alcune aziende si stanno trasferendo per poter fare poi fisicamente anche rete e trarre i frutti di quella ricerca innovativa che il tecnopolo produce l'architetto Andrea Oliva lavora in maniera molto minimale molto rispettosa mantenendo il più possibile la struttura esattamente come era e andando a inserire al suo interno questi contenitori e quindi queste architetture dentro l'architettura quindi questo dialogo è anche molto evidente molto forte tra l'esistente e il nuovo che rende questo luogo io ritengo anche molto affascinante il progetto del padiglione Italia poi ha una terza una terza sezione che abbiamo chiamato incontrare il bene comune agire il bene comune scusate allora l'idea qui è stata sostanzialmente questa come portare la biennale fuori dalla biennale come portare il padiglione Italia fuori dal padiglione Italia la biennale è un'esposizione che ha una durata nel tempo di circa sei mesi è chiaramente un evento effimero noi nel riflettere sul tema delle periferie volevamo portare dei segni piccoli seppure piccoli ma comunque tangibili in quei luoghi di indagine in cui eravamo chiamati a lavorare e quindi l'idea qui è stata di coinvolgere tutto quel mondo dell'associazionismo che quotidianamente agisce direttamente nelle periferie italiane e quindi abbiamo invitato cinque grandi associazioni nazionali a cui abbiamo affiancato cinque progettisti con l'obiettivo di realizzare cinque architetture mobili cinque dispositivi partendo da un dispositivo base quello che abbiamo chiamato il dispositivo zero quindi partendo da un container carrellato che poi ogni architetto ogni progettista doveva adattare su misura delle esigenze delle associazioni e quindi li vediamo qui riuniti modelli per conto di emergency Matilde Cassani ha progettato un ambulatorio mobile per conto di AIB che è l'associazione italiana biblioteche alter studio partner ha progettato un bibliobus una biblioteca mobile per conto di WISP l'unione italiana sport per tutti Marco Navarra NOA un dispositivo legato a tutte quelle attività di introduzione allo sport che WISP struttura nelle periferie italiane per lega ambiente arcò un dispositivo di analisi ambientale ma anche un luogo di sensibilizzazione sui temi della cura della tutela dell'ambiente e per ultimo per Libera Antonio Scarponi ha progettato un presidio da collocare in uno di quei beni confiscati della mafia e dati in uso all'associazione non avevamo le disponibilità economiche per realizzare questi progetti e quindi in mostra abbiamo portato i cinque progetti originali e abbiamo avviato una campagna di raccolta fondi quindi un crowdfunding civico con l'obiettivo di finanziare i cinque progetti era un obiettivo molto ambizioso puntavamo a raccogliere circa 300 mila euro siamo riusciti a raccogliere 150 mila euro che comunque quindi non quello che c'eravamo prefissi sapendo anche bene che diciamo era un obiettivo veramente molto difficile ma comunque fondi e finanziamenti in grado di mettere in cantiere tre dei cinque dei cinque dispositivi si è trattato comunque della credo terza o quarta non mi ricordo campagna per dimensione di fondi raccolti quindi attualmente uno dei dispositivi è realizzato altri due sono in fase di produzione e stiamo comunque lavorando per riuscire a trovare attraverso donatori sponsor i fondi necessari per completare il progetto che sarebbe diciamo la nostra aspirazione e quindi l'idea poi che queste architetture mobili si muoveranno nel paese porteranno diciamo testimonianza di quello che è il lavoro l'ambizione sarebbe alla prossima edizione della biennale attraverso diciamo un evento fuori biennale raccontare dove sono andati questi dispositivi quali attività hanno svolto le persone che hanno incontrato quindi diciamo con un riportare diciamo a casa un racconto di quali sono stati gli effetti di questo progetto sul territorio ecco in questo viaggio di andata di ritorno come è strutturata la presentazione di oggi vogliamo ora presentarvi alcuni progetti che sono attualmente in corso il primo è il prototipo di una casa ecologica a Keurbakaro un villaggio rurale nell'interno del Senegal e per realizzare questo progetto sostanzialmente abbiamo mutuato quelle che sono le stesse modalità che modalità analoghe a quelle che vi abbiamo raccontato per i progetti portati in mostra per il Padiglione Italia in sostanza questo progetto nasce da un'idea un'idea di un'associazione di senegalesi residenti a Mestre che intendeva utilizzare le rimesse per realizzare un progetto in qualche maniera virtuoso nel villaggio in uno dei villaggi di origine e quindi ci invitano a pensare a quale può essere lo sviluppo di un ecovillaggio in questo pezzo dell'interno del Senegal e quindi si comincia un lavoro partecipato con questa associazione che porta allo sviluppo di un prototipo di casa ecologica e questa idea poi è presentata alla fondazione Autodesk Autodesk è una delle più importanti software house americane e mondiali produce software quali AutoCAD Revit all'avanguardia con il BIM e quindi otteniamo un finanziamento da parte di Autodesk e quindi di nuovo un'idea che si traduce in un progetto un progetto che poi diventa riesce a raccogliere dotazioni possibilità economiche per vederlo realizzato il progetto si basa sull'idea del recupero del riciclo dell'acqua siamo in una parte del Senegal in cui si alternano fasi brevi di piogge abbondanti e stagioni molto lunghe di siccità quindi chiaramente si capisce come il tema della raccolta dello stoccaggio dell'immagazzinamento dell'acqua del filtraggio del riutilizzo è un tema fondamentale per la vita del villaggio non vi sto a spiegare il progetto da un punto di vista impiantistico come è stato sviluppato perché potete trovare tutto il progetto al link che vedete in questa illustrazione è un progetto copyleft quindi tutto il progetto è stato pubblicato messo in rete quindi è liberamente scaricabile è implementabile modificabile quindi l'idea che poi il progetto possa diventare patrimonio comune che possa diventare poi anche esempio per altri progetti e questo poi è la prima fase del progetto che inaugurerà a maggio e un altro progetto che stiamo sviluppando è il di cui si parlava si parlava prima il progetto del Maisha Film Lab a Kampala in Uganda in questo caso siamo stati invitati da Mira Nair che è una delle più famose registe indiane che ormai da molti anni vive a Kampala a realizzare la sede di un'associazione che ha fondato più di dieci anni fa Maisha Maisha è un'associazione che è una onlus che struttura corsi di formazione per giovani cineasti africani il il mantra di Mira Nair è se non raccontiamo noi le nostre storie nessuno lo farà e quindi l'idea di investire sulla cultura perché anche in un paese come l'Uganda che è un paese sostanzialmente stabile un paese in forte crescita economica un PIL che sfiora la doppia cifra annuale la crescita non si misura solamente in termini economici ma si misura anche in termini di crescita culturale la crescita culturale si accompagna alla conservazione della memoria e della cultura del luogo e quindi se non raccontiamo noi le nostre storie se non ci mettiamo noi nelle condizioni di raccontare le nostre storie con cortometraggi con i film nessuno lo farà e quindi la nostra cultura la nostra storia si andrà perdendo si andrà dilapidando e quindi da dieci anni corsi per filmmaker corsi per cineasti corsi per operatori cinematografici la necessità di realizzare una sede per questa associazione siamo in un pezzo di Africa molto diverso rispetto al Sudan l'Africa subsahariana desertica l'Uganda è un paese che si attesta sulla fascia tropicale con una vegetazione straordinaria quindi un edificio che si apre sul paesaggio a differenza di quei progetti di cui vi ha parlato Massimo quei progetti introversi in cui il giardino la corte il patio sono il microcosmo accogliente che in qualche maniera si oppone al macrocosmo ostile del clima desertico qui invece ci si apre nel paesaggio il progetto è collocato sulla cima di una collina le porte nella periferia di Campala luogo assolutamente suggestivo che si affaccia sul lago Vittoria il progetto è strutturato con Mira e qui un dialogo molto stringente con il committente in qualche maniera come se fosse un film Maisha significa vita e quindi nell'idea di Mira il progetto deve essere un progetto che investe tutto il giardino in cui una serie di installazioni o di piccoli corpi di fabbrica raccontano in una sequenza collegata da un percorso un racconto legato alla vita della persona e quindi con Mira disegniamo un vero e proprio storyboard e qui vedete alcune delle illustrazioni del storyboard che abbiamo disegnato per questo progetto collaborando con Marta Gerardi che è una fumettista illustratrice che da molti anni collabora con noi e quindi ne cito solamente alcuni perché altrimenti bisognerebbe parlare troppo l'ingresso in scena è rappresentato dall'ingresso l'età della consapevolezza da un'installazione artistica l'età dell'esplorazione di nuovo da un'installazione artistica e così via le parti esterne del progetto le aule a cielo aperto i percorsi sono già stati realizzati non è ancora stato realizzato invece il corpo principale dove troveranno luogo gli uffici una sala di proiezione nell'interrato e poi spazi didattici sulla copertura dell'edificio questa sorta di aula gradonata che poi richiama la memoria di un progetto molto diciamo un'icona dell'architettura del novecento italiano italiano tutto costruito in mattoni mattoni sono l'elemento primo della costruzione il materiale di più facile economica reperibilità e quindi 100% mattoni per i pavimenti per i muri per i soffitti e quindi il primo atto è stato quello di realizzare una fornace per produrre i materiali che poi saranno impiegati per costruire il progetto con le terre con le argille del luogo per poi arrivare in questo percorso ideale a quella terrazza da cui si godrà questa vista straordinaria sul lago Vittoria progetto che stiamo attualmente realizzando che sta entrando in cantiere in questi giorni in qualche maniera è un salto di scala per la dimensione e anche per la collaborazione che è stata intrapresa per questo progetto rappresentato dall'ospedale pediatrico di Entebbe in Duganda il comitente sempre emergency in questo caso è un progetto che stiamo realizzando in collaborazione con Renzo Piano e quindi un salto di scala per la dimensione e anche per il rapporto con un grande studio come quello di Renzo Piano però poi alla fine gli elementi che costruiscono il progetto sono credo analoghi a quelli dei progetti di cui vi parlava Massimo questo mix di tecnologie tradizionali e di innovazione tecnologica quindi ai muri in Pise si accompagnano queste coperture con questi grandi campi fotovoltaici e quindi è in questo equilibrio tra Genius Loci tra i materiali della tradizione tra l'innovazione che è importante portare nei progetti che cerchiamo di trovare diciamo la dimensione del costruire in quelle parti del mondo in cui lavoriamo ma che attraverso la lezione che abbiamo imparato in quelle parti del mondo abbiamo cercato di riportare nei progetti in cui siamo stati chiamati a operare anche in Italia anche nei nostri contesti e concludo rapidamente raccontando un progetto che invece è molto vicino a noi ed è un progetto per un complesso parrocchiale siamo a Viareggio nel quartiere Varignano Varignano è il quartiere diciamo popolare il quartiere operaio di Viareggio quindi abbiamo scoperto una Viareggio molto diversa dalla riviera dalla dimensione diciamo della 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 passeggiata dell'architettura dell'époque della ricettività abbiamo scoperto una Viareggio fatta di 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 case popolari una Viareggio molto schietta una Viareggio che però versa anche in una condizione di difficoltà legata all'invecchiamento della popolazione alla chiusura di molte di queste attività produttive quindi la perdita del del lavoro problemi di anche di dissesto da un punto di vista finanziario in cui versa la città che adesso ha grossi problemi di debito pubblico un progetto che quindi in qualche maniera è collocato come dire al centro di questo dissesto fisico ma anche di dissesto sociale lo è diciamo in maniera molto evidente è stato molto evidente la prima volta che siamo andati a vedere questo luogo questo è l'edificio esistente che sarà demolito e sostituito con la nuova chiesa era una chiesa progettata questa nella fine degli anni 70 era un prefabbricato doveva durare circa 20 anni per poi essere smantellato dopo quasi il doppio dopo 35 anni di onorato servizio era arrivato ormai a fine vita e quindi insomma ci pioveva ci piove letteralmente dentro e quindi le funzioni celebrate in mezzo ai catini dell'acqua e da una parte un parco pubblico realizzato concluso e mai inaugurato perché non è ancora stato preso in carico dalla pubblica amministrazione dall'altra parte un centro sportivo chiuso perché la società che lo gestiva è fallito e in mezzo questa struttura che necessitava di essere rinnovata sostituita abbiamo conosciuto poi da laici abbiamo conosciuto anche la dimensione di un parroco estremamente attivo in questa comunità in difficoltà un parroco che in qualche maniera è un punto di riferimento per una comunità e quindi progetto di concorso un concorso in due fasi un concorso inviti che abbiamo siamo riusciti a vincere abbiamo avuto la fortuna di vincere in questo caso il progetto quale è stato allora siamo partiti da quello che c'era e che in qualche maniera era diventato parte dell'identità del luogo quel cappannone che avete visto prima era considerato a ragione a torto noi non la pensavamo così ma insomma diciamo la più brutta chiesa di Viareggio però al contempo era diventato motivo di orgoglio la comunità sosteneva sarà anche la più brutta ma è la nostra e quindi da quello siamo partiti in qualche maniera abbiamo voluto mantenere quella che ormai era un'immagine consolidata di questo edificio ma di trasformarla in qualcosa d'altro di implementare una struttura mantenendole quasi le forme quindi il volume della chiesa viene ripreso e diventa quel volume ocra che vedete con l'aggiunta di un portico di un esonartece di un portico affiancato che poi conduce le opere parrocchiali poste sul retro del volume dell'aula un edificio estremamente semplice anche in questo caso un rimando a quella tradizione del luogo di costruzione con il legno con la costruzione delle barche e quindi una chiesa costruita completamente in legno quindi anche in questo caso il materiale diventa un medium del rapporto che si costituisce tra le persone e quello che diciamo conoscono e che sono stati abituati a maneggiare in tanti anni di attività lavorativa quindi l'aula è completamente in legno il legno che viene lasciato a vista e poi il legno diventa protagonista anche degli altri spazi come la cappella feriale e il battistero l'immagine dell'esterno è un'immagine per noi altrettanto importante l'esterno anche qui viene curato con la stessa attenzione con cui viene curato l'edificio il giardino diventa un luogo di relazione tra il complesso e il quartiere un luogo che potrà diciamo speriamo diventare anche cerniera tra il complesso che verrà costruito e quel parco che nel frattempo speriamo venga aperto e reso fruibile dalla cittadinanza quindi come concludere generosamente ti lascio l'onore delle conclusioni e io mi fermo qui grazie non sono io che sono l'organo sono sono quasi le sei quindi direi che questo racconto di quelli che sono state di quelli che sono alcuni dei percorsi dello studio e delle opere anche attualmente in corso penso sia sufficiente il tema che affrontiamo è sempre quel tema dell'ignità delle persone che cerchiamo attraverso il nostro lavoro di architettura di portare in primo piano è la cosa a cui teniamo di più ed è sempre il cuore di ogni progetto poi si riflette nelle scelte tecnologiche nelle scelte dei materiali nelle scelte figurative nell'uso dei colori attraverso la la presentazione abbiamo in qualche modo mostrato come con il nostro mestiere cerchiamo di declinarlo di declinare questa intenzione nei vari modi possibili ecco io con questo vi ringrazierei per l'attenzione e se magari c'è tempo e voglia per delle domande noi siamo qui molto lentieri grazie mille volevo fare un'anserazione riguardo circa il libro Vivere insieme co-housing e comunità solidali che è a cura del vostro studio nel libro si legge in un co-housing il progettista non è soltanto colui che disegna immagina ma ma anche chi deve essere in grado di assumere un ruolo nuovo e molto più articolato in grado di sintetizzare e semplificare i processi complessi ecco la mia domanda era era un po' generica diciamo come è cambiato nel tempo e come diciamo vedete dai vostri occhi che cambierà la figura dell'architetto da progettista assoluto quale può essere stato un tempo a intermediario appunto come come pensate esist i concili beh credo poter rispondere dicendo che noi non abbiamo mai veramente creduto anzi non abbiamo mai creduto affatto a quell'immagine prometeica dell'architetto l'architetto de miurgo che inventa luoghi spazi di vita e che nel farlo ha l'aspirazione e la pretesa di costruire anche dei modelli sociali e dei modi di uso crediamo che il riteniamo che il progetto nasca attraverso un confronto con una platea più allargata possibile di attori che a vario titolo intervengono all'interno del progetto quindi questo ha portato poi a un'idea che il progetto deve essere un progetto sempre aperto che dia la possibilità di costruire dei percorsi partecipati e comunicativi e lo abbiamo sperimentato in diverse forme cerchiamo di farlo sempre in tutti i progetti che realizziamo è avvenuto con con emergency in cui i progetti non ci sono stati commissionati soprattutto all'inizio perché esperti di architettura ospedaliera ma forse proprio perché non lo eravamo e quindi non eravamo portatori di un sapere scientifico esclusivo ma eravamo aperti all'ascolto aperti a lavorare con quel personale ospedaliero parospedaliero con l'ufficio tecnico di emergency e quindi di tradurre poi in spazi e di mettere poi ovviamente sul tavolo quelle che sono le nostre conoscenze tecniche e specifiche per costruire un progetto che fosse su misura delle esigenze delle persone che poi avrebbero operato all'interno dell'ospedale e in questo anche un tentativo di confronto poi anche con la comunità locale attraverso il rapporto che emergency costruiva quotidianamente con la comunità locale in cui questo e altri progetti si andavano e si vanno a inserire ma i progetti di co-housing seguono la stessa la stessa modalità in cui anziché realizzare diciamo gli insediamenti residenziali immaginando dei potenziali clienti abbiamo cercato di costruire gruppi di persone gruppi di co-houser gruppi di persone interessate a vivere insieme a condividere alcuni degli spazi del progetto il co-housing è proprio questo è quel mix di residenze diciamo che in sé hanno diciamo tutte le caratteristiche di una casa tradizionale di una casa convenzionale se vogliamo ma che hanno quel di più rappresentato dagli spazi comuni aperti o scoperti in cui le persone condividono alcuni momenti della propria vita e quindi si lavora una costruzione di un progetto su due binari in cui si lavora per un singolo cliente che può essere un nucleo familiare ma al contempo per un gruppo di persone che intendono costruire diciamo il condominio condiviso o il borgo condiviso a seconda che possa essere collocato in una periferia urbana o in una campagna e quindi abbiamo lavorato per costruire dei gruppi di persone che potessero essere interessate a realizzare questo progetto poi con loro abbiamo intrapreso un percorso anche molto articolato di confronto in cui abbiamo determinato quelle che potevano essere le linee guida condivise da tutto da questo gruppo di futuri abitanti di futuri coausi o aspiranti tali e poi sulla base di queste linee condivise abbiamo condotto la ricerca del terreno dove realizzare il progetto e poi abbiamo realizzato il progetto che poi è stato effettivamente mi riferisco ai due progetti che abbiamo realizzato uno a San Lazzaro di Savana nella periferia residenziale di Bologna e uno a Villorba quindi nella campagna di Treviso poi effettivamente alla fine hanno risposto esattamente alle esigenze di queste committenze e credo di poter dire anche che sono state un successo perché in un momento in cui il mercato si stava sempre più restringendo soprattutto il mercato residenziale in cui già sul mercato c'erano grandi quantità di case invendute come ce ne sono ancora quindi sono due progetti in cui i cantieri sono partiti nel momento in cui sono partiti tutti gli alloggi erano già stati assegnati ma non perché noi siamo particolarmente bravi quindi il nostro progetto era più bello di tutti gli altri ma perché era un progetto costruito esattamente su misura delle esigenze di singoli committenti al contempo di un gruppo di persone e questo significa anche mettere in gioco le proprie certezze e di essere capaci di quell'ascolto e di quella capacità anche di modificare un progetto rispetto a quelle che sono gli input che vengono dall'esterno e questo significa non tanto fare esattamente quello che ti chiedono di fare perché ecco una cosa che diceva Alvaro Sizza la partecipazione non è non è una rispondenza diretta a quello che ti chiedono la partecipazione deve essere anche conflitto perché se non c'è conflitto c'è manipolazione questo significa che un tecnico può avere gli strumenti per manipolare diciamo attraverso una posizione di potere che assume l'indirizzo del progetto però significa anche che è un portatore di un sapere tecnico di un sapere specifico e quindi deve portare questo sapere all'interno del confronto e quindi diciamo che la ricerca è quella di trovare sempre quel punto di equilibrio tra l'esigenza del luogo l'esigenza della committenza e l'esigenza del progetto e il sapere che noi portiamo all'interno del progetto volevo solo aggiungere una cosa a quello che sintetizzare quello che ha detto Simone con un'osservazione che secondo me risponde direttamente alla tua domanda questo è un processo quello che descriveva Simone è complesso e faticoso anche se è divertente perché ti mette continuamente in gioco in relazione con attori e situazioni ogni volta via via differenti però credo che la specificità del nostro lavoro sia proprio nella capacità di produrre alla fine una sintesi della complessità cioè il tema dell'architetto che comunque è disponibile a ascoltare e a mettere in gioco la propria professionalità lo fa per ottenere la sintesi migliore quindi non c'è una situazione pre-ordinata prefigurata che a mio avviso non produce architettura cioè produce solo una celebrazione dell'architetto viceversa se attraverso questo processo si riesce a raggiungere un risultato è perché l'architetto è capace di sintesi ed è la cosa che la società gli chiede portare a semplicità la complessità penso questo sia una un tema molto importante su cui rifletto buonasera io volevo una domanda operativa proprio come gestite i cantieri in realtà così pieni di incertezza come i paesi del terzo mondo e come la fase progettuale risente dell'incertezza che immagino ci sia durante la fase realizzativa il lavoro è come potete immaginare è un lavoro di team quindi tutti i progetti che vengono realizzati in questi contesti sono progetti che rimbalzano diciamo tra il nostro studio che è un piccolo studio ma ha un network di collaborazioni specialistiche professionali soprattutto sull'utilizzo delle tecnologie alternative molto attento e molto anche aperto alle soluzioni sperimentali e ovviamente un gruppo di persone un team di persone che sul luogo è in grado di aprire e effettuare questa sperimentazione diciamo che la nostra è una condizione molto privilegiata perché soprattutto con un'associazione ben organizzata ben strutturata come Emergency c'è la possibilità di lavorare in queste due contemporaneamente sul progetto in due luoghi diversi cioè una sperimentazione una produzione una ricerca ma anche un test continuo e una revisione continua sul campo i team progettuali sono sempre divisi in due quindi a volte ci troviamo a operare da questa parte lavorando in studio o lavorando a Milano o dove capita per necessità a Genova con lo studio di Renzo Piano per esempio in quest'ultimo progetto viceversa altre volte invece siamo sul luogo a testare e sperimentare e a provare a costruire questi mattoni piuttosto che a valutare come si possono armare i getti con le condizioni e con i materiali che sono reperibili in quel luogo diciamo che la caratteristica più interessante del nostro lavoro è proprio che è quella di non portare un tipo di architettura che è preconfezionata cioè il modello di edilizia sanitaria che si è esportato verso i paesi del terzo mondo è un modello fallimentare perché sono edifici che hanno dei costi di manutenzione troppo alti edifici che necessitano di una manodopera specializzata che non si trova in loco quindi le tolleranze che vengono richieste dai nostri standard non sono le tolleranze che puoi trovare nella realizzazione in cantiere quindi è proprio lì il punto di lavorare con la capacità di adattarsi per raggiungere gli standard necessari per un'edilizia sanitaria ma ogni volta in un modo nuovo insomma diciamo quindi è un lavoro di team è un lavoro di equip non è legata all'inventiva o alla genialità del singolo architetto risposta in sintesi migliaia di ore di confronti via Skype a cui dobbiamo la nostra sempiterna gratitudine io vi volevo chiedere se vi è mai capitato di trovarvi di fronte a episodi di corruzione pesanti che hanno ostacolato il vostro lavoro perché comunque operate in campi in cui vi scontrate contro poteri forti immagino in campi anche in cui girano dei soldi e mi immagino che debba esserci dell'ostilità nei confronti di chi lavora in modo nuovo diverso e quindi vi è mai capitato di non riuscire a realizzare uno dei vostri progetti o di non riuscire a farlo proprio come avreste voluto sì diciamo che in questa fase una componente molto importante viene giocata anche dal prestigio dell'organizzazione e di chi la presiede e la rappresenta cioè Gino Strada nella fattispecie perché è una contrattazione ma è una contrattazione che non ammette negoziazione cioè nel momento in cui si pone o si intravede i lavori si fermano non c'è non c'è negoziazione quindi è la è una linea molto dura perché accettare un compromesso significa poi creare un effetto valanga quindi la risposta è che le condizioni con cui si porta questo tipo di servizio di architettura sono chiare definite in partenza e non sono discutibili successivamente perché molti progetti si sono fermati a metà però alla fine è più diciamo hanno poi trovato una soluzione perché è più negativo l'effetto di un progetto che viene interrotto bloccato perché è stata palesata una richiesta di non non di insomma di hai capito benissimo di cosa parlo sì e tutto ciò per la controparte è più negativo è un prezzo troppo alto da pagare anche per loro il fatto di rinunciare a un progetto che è già stato pubblicizzato e presentato perché nel momento in cui il cantiere si ferma le persone che hanno hanno presentato delle richieste che non dovevano sono nude davanti al pubblico opinione non non è quindi diciamo da questo punto di vista questa è la prassi la filosofia e il modo di lavorare è chiaro che poi questo diciamo il contraltare di questo è che l'organizzazione non è poi invitata a partecipare a certi tipi di gare non è all'interno di certi programmi di cooperazione eccetera è così ma ha quasi una specie di vita propria e parallela è il prezzo da pagare ecco diciamo noi come studi di progettazione per esempio forse siamo tra gli studi più competenti per la realizzazione di strutture sanitarie nell'Africa subsahariana nei vari programmi di cooperazione che vengono presentati annualmente all'interno dei nostri vari ministeri esteri salute cooperazione eccetera non ci hanno mai chiesto una consulenza mai probabilmente perché anche abbiamo un come dire un ID molto specifico un profilo molto specifico che forse non si adatta ad altri tipi di progetti io ho una domanda su un effetto secondario che i vostri progetti possono avere nel terzo mondo quando si parla di architettura umanitaria quindi sicuramente i vostri progetti possono agiscono sul contesto sociale e ne migliorano lo stile di vita delle comunità limitrofe insomma che si ritrovano influenzate dai progetti che realizzate però avete anche parlato dell'importanza di trasmettere delle conoscenze tecniche alle comunità locali che lavorano e che magari si che lavorano nel cantiere che realizzano insieme a voi il progetto avete avuto la fortuna di verificare che questa trasmissione di conoscenze portasse le comunità a realizzare progetti sfruttando tutto quello che avevano imparato da voi quindi questo effetto secondario di valore aggiunto che il vostro progetto può portare alle comunità se avete mai avuto modo di verificarne l'utilità direi in sbagliati casi nel senso che per esempio questo lavoro fatto con i container ha di fatto creato una formazione specifica sulla carpenteria di ferro che le maestranze prima non avevano perché costruivano legno mattone al massimo un po' di cemento e così via quindi e anche le capriate fatte per l'ospedale eccetera per cui dal dal gruppo diciamo di imprese che hanno lavorato sull'ospedale a Cartoon sono poi uscite un due o tre imprese che hanno cominciato a fare edifici in struttura metallica ma sono frigoriferi cioè le frigorifere cose del genere tutto grazie alle esperienze che sono maturate all'interno del del cantiere allo stesso modo in altri contesti per esempio a Bangui nella Repubblica Centraficana non si trova a ferro siamo in zona equatoriale quindi tutto il disegno il progetto strutturale è stato fatto prevalentemente con con legno e quindi anche lì si è evoluto diciamo le conoscenze tecniche dei vari carpentieri locali e poi si è lavorato con c'è una grandissima produzione di manufatti in rattan sia di arredo che anche di contenitori eccetera così quello è un ospedale pediatrico e abbiamo quindi messo insieme degli artisti locali con i produttori di questi manufatti per costruire degli animali fantastici che hanno poi popolato il giardino il cortile della clinica pediatrica e anche questo poi ha generato una ricerca una piccola economia locale di produzione comunque le persone hanno risorse incredibili è una questione di fiducia di rispetto e di creare le condizioni per cui queste si attivino vale per i progetti del parco dei paduli di cui ha parlato Simone prima non è un problema del sud del mondo è un problema diciamo globale facciamo un tentativo prima faccio una domanda io e do tempo a altri di pensare a un'altra domanda volevo sapere ero curioso di sapere le dimensioni del vostro studio se ci potete dare qualche dato su quante persone lavorano e poi anche se diciamo se vi dividete il lavoro se c'è un team che lavora sull'Africa e se c'è un team che lavora sull'Europa o su altre parti del mondo oppure se il gruppo è unico e lavora su qualunque cosa arrivi allo studio allora lo studio come diceva Massimo è uno studio sostanzialmente piccolo siamo circa in dieci circa legato al fatto che ci siano alcune presenze che entrano e escono all'interno dello studio rispetto a esigenze particolari però diciamo il numero si attesta intorno alle alle dieci a dieci dodici unità comprendendo anche i tirocinanti gli internship che vengono all'interno dello studio cosa che ci rende anche molto felici perché avere studenti o neolaureati che vengono per periodi consente sempre di ossigenare lo studio perché crediamo che i tirocini gli interni portino a casa qualcosa ma diano anche molto in termini di entusiasmo e di freschezza all'interno dello studio è chiaro che poi ci sono degli ambiti di competenza all'interno del gruppo che sono naturalmente legati poi anche alle capacità le propensioni individuali di ognuno quello che si cerca di fare è di avere sempre un confronto in cui si discute anche all'interno dello studio del progetto e questo per portare poi diciamo le capacità le sensibilità e le competenze di tutti all'interno del progetto e anche perché questo molto spesso serve a allontanare a volte dare la giusta distanza rispetto a quello che stai facendo perché quando tu guardi troppo un progetto in qualche maniera è come se lo perdessi di vista invece un occhio fresco un occhio diverso dal tuo può farti riconoscere quelle che possono essere potenzialità errori all'interno dello stesso quindi cerchiamo poi anche di portare diciamo di avere dei momenti in cui ci confrontiamo ci confrontiamo tutti e poi chiaramente man mano che il progetto si sviluppa gli si dà ognuno se ne prende una parte e lo sviluppa insomma ecco abbiamo sempre cercato di porci in qualche maniera come studio tecnico al contempo di collettivo non considerando questi come due dimensioni diverse ma come due sfaccettature di una medesima necessaria approccio che ci debba essere all'interno del progetto io volevo fare una domanda di attualità considerando il fatto che ultimamente si parla molto di ricostruzione da tisismi che sono accaduti in Italia volevo sapere il vostro rapporto con la ricostruzione e come intendete diciamo questo tipo di come intendete ricostruire se avete pensato diciamo a cosa fare in questi casi rispondi tu che sei feriulano di Gemona al momento la nostra attività diciamo che nell'ambito di quel progetto del padiglione Italia che vi ha spiegato Simone due dei dispositivi che sono in corso di realizzazione la biblioteca mobile dell'associazione italiana bibliotecari e il diciamo il quel dispositivo legato alle pratiche sportive che sarà in capo a WISP sono finalizzati a lavorare nella zona di Amatrice quindi nella zona di Centro Italia ecco quindi stiamo lavorando per completare questi questi dispositivi in maniera da poterli utilizzare in quelle aree sono all'interno di un progetto più grande che è la ricostruzione della biblioteca proprio pubblica da Amatrice ma siccome è un'area frammentata è un'area diciamo caratterizzata dalla presenza di tante piccole frazioni questa scelta di mobilità per portare i servizi anche in luoghi differenti però nello stesso tempo mantenere un legame tra le diverse frazioni e le diverse comunità è stata molto apprezzata e quindi questo è il nostro impegno diretto e principale poi se ci saranno altre occasioni molto volentieri diciamo c'è stato anche un impasse da questo punto di vista fino ad ora nel senso che non si è proceduto ad un vero piano organico di ricostruzione ma si sta cercando di gestire l'emergenza mi pare che proprio ieri il commissario Errani abbia assegnato a Stefano Boeri un incarico di coordinamento che quindi prevede anche un tempo più più lungo di circa 12 mesi mi pare sia l'incarico e da quello che ho letto e da alcune diciamo cose che ci siamo scambiati parlando con lo studio di Boeri cose che sono diciamo un contatto nato un po' di settimane fa e ci sembra di capire che l'indirizzo sia più quello che è un indirizzo anche che condividiamo di cercare di attivare le risorse locali quindi cercare di creare magari attraverso un'operazione di coordinamento e di supervisione ma di creare un network locale di studi professionali di professionisti così che magari anche abbia all'interno dei percorsi di formazione in maniera che questo sia un progetto che poi possa essere seguito da persone che conoscono i luoghi e che realizzandolo possono anche contribuire a quella che è una riattivare l'economia locale perché questo è un punto fondamentale diciamo che un modello che sicuramente ci sentiamo di sposare è quello proprio della ricostruzione in Friuli io quello lo conosco anche in prima persona ed è un modello particolarmente valido a mio avviso proprio perché punta tutto sulle risorse locali e quindi diventa anche un motore di rinascita proprio perché diciamo dà un'opportunità alle popolazioni ai residenti di sviluppare professionalità competenze e economie sul territorio non credo negli interventi che piovono dall'alto o nelle grandi gare di appalto nazionali questo per dire che proprio ecco mi auguro che il modello dell'Aquila sia chiuso tra parentesi e dimenticato per sempre io invece volevo fare una domanda per quanto riguarda voi avete detto che vi occupate di marginalità di periferie però ora si parla tanto di città metropolitana e poi dell'agglomerato di paesi satelliti che non sono altro che la periferia di queste città metropolitane volevo sapere se voi da questa scala che è un po' più una scala facendo un zoom out una scala urbana come per dire più territoriale se avete delle strategie per la situazione attuale dell'Italia che è quella dell'Italia interna che va dal sud Italia come fino a arrivare al nord intendo non so se è chiara la domanda se ci sono delle perché si parla ora della situazione attuale dell'Italia credo che ci sia bisogno più di ci sia bisogno di interesse maggiore per quanto riguarda quelli che sono i paesi che sono le periferie di quelle che sono le città metropolitane noi si parla di Milano di Napoli di Firenze dello sviluppo per quanto riguarda la connessione anche tra queste città metropolitane ma le marginalità dell'Italia che sono appunto i paesi e l'Italia interna che penso che sia la nuova problematica da qui ai 30-50 anni oltre a io credo che in qualche maniera abbiamo provato a rispondere a questa domanda attraverso il lavoro del Padiglione Italia attraverso la nostra riflessione su quelle che sono le periferie c'è molta c'è molta retorica su quella che è oggi la periferia identificata in maniera banalmente fisica contrapposta alla città consolidata alla città storica al centro è vero che come diceva anche il Ministro Franceschini se gli anni 80 e 90 sono stati gli anni in cui sono sostanzialmente riqualificate i centri storici ora il tema è tutta la parte di città moderna però parlare in maniera così schematica credo che abbia poco senso sono periferie quei centri all'interno della città che sono in stato di degrado e di abbandono il centro storico di Genova prima di essere riqualificato era sicuramente in una condizione di marginalità e di periferia ci sono parti anche non tanto tempo fa sono venuto a passeggiare qui a Pisa e ci sono luoghi di degrado di grandissime straordinarie potenzialità all'interno delle mura cittadine che versano in stati di sostanziale degrado quindi lì secondo me si riconosce marginalità e si riconosce periferia quindi credo che sia più uno stato della mente più che un luogo fisico periferie sono anche quei borghi in progressivo stato di abbandono allora come reagire a questi fenomeni sicuramente non è facile si rischia anche parlando di rispondere per slogan però credo che più che costruire grandi centralità sia sia necessario investire sulle tante risorse locali sui tanti luoghi sulle tante centralità che si possono costruire e che possono essere messe in rete tra di loro ci vuole un patrimonio di idee ci vuole la necessità di investire sulle comunità locali di investire su quelle che possono essere le attrattive da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista come dire culturale e lavorativo quindi sono progetti che vanno ben al di là ben oltre quelle che sono le nostre diciamo capacità di progettisti di costruttori di architetti ma che devono mettere in campo competenze molto articolate d'accordo questa direi che era l'ultima domanda io ringrazio ancora gli architetti Lepore e Sfriso ringrazio Fabio per l'introduzione ringrazio voi per le domande e la pazienza e vi do l'appuntamento al 12 maggio con Elisa Valdero Ramos grazie mille grazie mille